Io credo che Strindberg abbia fondato tutta la sua drammaturgia tra marito e moglie sulla Medea di Euripide. La cosa bella di Euripide che mette in mutande l'eroe greco. Penetrare di notte nella loro stanza da letto e ficcare un coltello affilato nel ventre degli sposi. Retroscena, i segreti del teatro. Martedì in seconda serata. Che bel testo.